...d'infilata il portiere, la veneziana ha riuscito a salvarsi in corner. Ecco il corner di Caccia, colpa destra, e gol! Gol! Passa subito il Messina con Romolo Rossi, secondo gol in maglia giallorossa dopo un minuto e 30 secondi, Messina 1, brindisi 0. Gol! Bellissimo! Il pallone, ottimo l'affondo sulla destra di Venditelli mentre se ne va Franco Caccia. Ancora per Venditelli, ancora un cross, con un fallo di mani, calcio di rigore, fallo di mani! Catalano contro la veneziana, gol! Tocca la veneziana e intuisce, ma il gol 2 a 0, Messina 2, brindisi in 0. Venditelli nei pressi, due uomini in barriera sulla linea che delimiterà il rigore, gol! Catalano, Peppe Catalano al 31esimo della ripresa, Messina 3, brindisi 0. Ancora un servizio buono per Cei, Cei, Cei ha servito Schillaci, non sbagliare Totò! Si mangia Schillaci! Senza 1, se dim catch. ruce 5 che pic퍼.